Se non scarichi OneFootball non saprai le novità, calcio in live ad ogni ora e c'è anche la Serie A. Dai scaricati OneFootball, link in descrizione è, fidati non è uno sbaglio, è la migliore app che c'è. Fosi scendono in strada, non chiedo messi o Neymar, ma un gioco che li appaga, così facciamo pietà. Vedo c'è l'annogro laggiù, intanto spengo la TV, così non ce la faccio più, se ne va anche la curva a sud, così non ci rialziamo più, ci vorrebbe Gesù. Il bel gioco aspetto, ma per ora fai solo figuracce, e così la Champions perderai di vista, le colpe son vostre. Comaldini e Boban, un mercato strano, sui giovani investe, e la Fiorentina prende i beri con chiesa Sonsaette. Parto un fischi dallo stadio, che sente tutta la città, perché tu non giochi a calcio e vedi Suso che è troppo assente. La curva esce immediatamente, questo Milan è assente, noi tiferemo sempre se vinco e se perdo me o Milan così. E spesso un po' ridicoli, e parlo della squadra sì, e se non cambierai poi sì, addio alla Champions, liga addio alla Champions sì, e spesso un po' ridicoli. Musacchio fa fallissi, non è stato intelligente, si è vendicato su Ribery.